benvenuti in questo nostro nuovo video anche oggi torniamo a parlare del patent box alla luce delle ultime novità con la circolare d'agenzia delle entrate 5e del 24 febbraio 2023 come sappiamo l'articolo 6 del decreto legge del 21 ottobre 2021 numero 146 ha introdotto questa nuova versione del patent box andandola poi a confermare con la legge di bilancio esenza dell'articolo 1,10 della legge appunto del 30 dicembre 2021 numero 234 e che sostanzialmente ha trasformato l'istituto del patent box da una forma agevolata basata sui redditi ad una forma di agevolazione basata sui costi introducendo a tal fine la possibilità di applicare una maggiorazione del 110 per cento a fronte di un complesso di spese di ricerca e sviluppo sostenute per l'implementazione e lo sviluppo di un complesso di beni immateriali agevolabili ora la disciplina come sappiamo ha trovato le sue declinazioni operative nel provvedimento numero 48 243 del 15 febbraio 2022 e quest'ultimo documento di prassi è stato poi oggetto di modifiche e chiarimenti a seguito dell'emanazione del provvedimento numero 52 642 del 24 febbraio 2023 e della nuova circolare il cui testo sappiamo bene è stato oggetto di consultazione pubblica fino al 3 febbraio 2023 ora la circolare la nuova circolare dell'agenzia delle entrate assieme al nuovo provvedimento numero 52 642 vanno a chiarire in maniera definitiva un complesso di dubbi legati alla nuova disciplina anzitutto viene chiarito il da un punto di vista temporale l'applicazione del nuovo patent box che si applica a partire dal periodo imposto in corso al 22 ottobre 2021 data di entrata in vigore del decreto legge 146 del 2021 superando così i dubbi legati alla originaria indicazione della data del 28 dicembre 2021 ora oggi noi ci concentriamo in modo particolare su quelli che sono gli aspetti di cumulabilità del nuovo patent box con il credito d'imposta in ricerca e sviluppo argomento che è stato come ben sappiamo oggetto di diversi dubbi di natura interpretativa ora per quanto riguarda la possibilità di cumulo fra i due istituti come sappiamo la legge di bilancio 2022 ha eliminato il divieto di cumulabilità fra le due agevolazioni pertanto in relazione alle medesime spese è possibile usufruire tanto della super deduzione del 110% quanto del credito d'imposto tuttavia bisogna tenere presente dei principi fondamentali innanzitutto il divieto del doppio finanziamento e a seguire la regola della nettizzazione dei costi con il primo criterio si consente alle imprese di cumulare fonti finanziarie diverse all'interno di un medesimo progetto a patto che non si superi il costo totale dell'operazione diversi invece la regola della nettizzazione dei costi che come sappiamo affonda le sue radici nella disciplina del credito d'imposti cerchi sviluppo di cui all'articolo 1 comodo 103 della legge 160 del 2010 la richiamata modella legislativa stabilisce che per le attività del cerchio sviluppo prevista al comodo 100 il credito l'imposto è riconosciuto in misura a pari al 20% della relativa base di calcolo assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e come ben sappiamo anche in altre nostre video pillole abbiamo affrontato questo argomento proprio su quest'ultimo aspetto si sono inannellati una serie di dubbi interpretativi oggi la nuova circolare dell'agenzia delle entrate conferma che il risparmio fiscale derivante al patent box rientra a pieno titolo fra le altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti andando quindi a sposare l'orientamento legislativo già assunto con la circolare 13 del 2022 per quanto riguarda i crediti per le imprese energivore circolare che stabiliva appunto che per sussidio si intende qualsiasi beneficio economico fiscale e non fiscale conseguito dall'impresa energivora partendo quindi a questo assunto sia in caso di applicazione del meccanismo premiale sia in caso di maggiorazione di natura ordinaria del patent box potrebbe verificarsi la situazione in cui l'impresa abbia usufruito talmente o parzialmente del credito d'imposti cerchi sviluppo sui medesimi costi sostenuti nel 2020 a seguire se così fosse l'impresa è pertanto tenuta a riversare la quota di credito già fruita corrispondente al beneficio maturato con il patent box senza l'applicazione di sanzioni e interessi proviamo ad esemplificare quanto abbiamo detto con un esempio di calcolo poniamo il caso di avere un brevetto concesso nel 2023 a fronte del quale sono state sopportate spese di ricerca e sviluppo pari a 50 mila euro come sappiamo si va ad applicare una liquida ires pari al 24 per cento e iram pari al 3 e 9 il credito d'imposti cerchi sviluppo senza il patent box sarà pari al 20 per cento e quindi avremo appunto un credito senza patent box di 10 mila euro il risparmio da patent box ovviamente nel nostro caso non applicare un ipotetico meccanismo premiale perché ricordo per quanto riguarda le speculative ehm ottenute dopo il dal 2021 in poi è possibile applicare questo recapture ottennale in forza del quale vai a recuperare le specie del che sviluppo sostenute appunto nel eh negli otto anni eh precedenti eh quindi si va ad ottenere un risparmio di patent box pari a 15 mila 345 euro che dovrà essere nettizzato dalla base eh di calco del credito d'imposti del che sviluppo qualora si volesse optare per un cumulo fra le due ehm agevolazioni. Chiudiamo eh ricordando eh anche un'ulteriore eh specifica eh introdotta dalla nuova eh circolare per quanto riguarda il momento eh di fruizione eh del beneficio. La versione finale del documento di prassi precisa che il momento di fruizione del beneficio fiscale è subordinato all'effettivo utilizzo diretto e indiretto del bene in materiale tutelato eh giudicamente. Come eh statuisce agenzia d'entrato occorre precisare che in termini generali il primo periodo di imposta nel quale è possibile usufruire dell'agevolazione è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale che potrebbe anche venire un periodo di imposta successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale. Fermo restando quanto appena statuito resta inteso che ai fini del meccanismo premiale quindi del recapture ottenale eh che abbiamo accennato precedentemente la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto periodi imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale. Io vi ringrazio per la consuetta attenzione e ci vediamo al prossimo appuntamento.